Oh, ecco, ci mancava anche lei. Venga, venga. Che sta meditando? Mi fanno male i piedi. Sarà stato per colpa della brace. Ah, perché lei cammina sui carboni ardenti? No, la brace per i barbecue. Ho fatto le bistecche per tutta la comunità. Sono stato tutti i giorni in piedi, una stanchezza. Tutti i tipi strani da qui ci passano. A un certo punto, signor Conti, sono arrivati anche un gruppo di hippie. A proposito, c'è uno che la conosce, un certo Claudio. Claudio chi? Claudio Lippi. Dopo, dopo. Insomma, mi dica, vieni. Dopo il barbecue, ci siamo riuniti tutti insieme e abbiamo parlato ognuno delle sue esperienze sessuali. E sa che io di esperienze ne ho avute tante. Con la sua ragazza? No, no, da solo proprio. Perché è la sua ragazza? No, con la mia ragazza ce l'avevano quegli altri della comunità. Ah, sportivo. Però poi, tanto, la mia ragazza mi ha lasciato per motivi religiosi. Cioè? Perché? Perché io non c'avevo una lira, lei adorava troppo il denaro. Perché lei è così magro? Perché mi ritiro. Cioè, in meditazione, in meditazione. No, proprio come Blue Jeans nell'acqua carda, sai? Proprio frrrr. Vabbè. Quando lei è stato illuminato? Un giorno, durante uno dei miei soliti viaggi, venni come il rapito da una luce celeste. E mentre venivo trasportato, il canto di una sirena mi lambiva le orecchie. Nani, nani, chinani, sono innocente, sono innocente, non ho fatto nulla. E ora, fratelli, fratello Carlo, e ora vado via, perché mi sembra da venedette anche troppe. Bravo!